Il percorso della fontana racconta questo simbolo di acquedotto pugliese che sta percorrendo i vari comuni della Puglia in accordo con le amministrazioni comunali che ci ospitano. È un momento importante perché le fontanine sono state il simbolo dell'arrivo dell'acqua buona in Puglia, dell'acqua corrente, assieme a rendere alle popolazioni l'importanza dell'acqua, a stimolare al risparmio, a stimolare alla condivisione di quello che è il lavoro quotidiano di tutto acquedotto pugliese. Qui a Cisternino questa iniziativa si carica di un particolare significato, cioè quello di festeggiare i cento anni del primo zampillo dalla fontana pubblica qui nel nostro comune. L'importanza oggi di comprendere qual è questa risorsa per conservarla, per tutelarla, per risparmiarla.